Onestamente è abbastanza difficile e noi ci siamo veramente entrati per minuti a sprazzi, diciamo così. Chiaramente per merito di Forlì, che è stata molto più aggressiva a mordere nella partita sia in attacco che in difesa. Noi siamo stati troppo spesso a guardare, abbiamo avuto un inizio soft che ha chiaramente mandato in fiducia una squadra che sapevamo essere pericolosa se lo entrava. Poi chiaramente il resto fa da solo, la fiducia fa fare anche numeri importanti e indubbiamente qualcuno ne ha fatti. Però è chiaro che se devo rimproverare ai miei qualcosa non posso rimproverare il fatto di essere stati un po' troppo soft, un po' troppo scolastici. Soprattutto in difesa dove abbiamo fatto bene le cosettine, però serve un altro tipo di aggressività, un altro tipo di fame, un altro tipo di voglia se vuoi vincere fuori casa in un campo difficile davanti a questo pubblico e con una squadra che ha dimostrato di avere numeri per il campionato. Io peraltro lo sapevo anche prima di giocarci. Non sono venuto qua con presunzione, non credo che l'abbiano fatto i miei giocatori, semplicemente diciamo che se fossimo stati paragonabili a un'orchestra diciamo che oggi era la prima e noi onestamente la prima l'abbiamo steccata. Su questo non c'è alcun dubbio. Abbiamo rischiato anche di perdere la faccia, per fortuna spero, perlomeno quella non l'abbiamo lasciata nel campo però a tratti onestamente la palla di Forlissima l'aveva telecomandata e quindi questo ci ha un po' segato le gambe cosa che non deve assolutamente succedere. Nulla, se avete voi delle domande da farmi onestamente sono qua a disposizione. Scusate che prima, oltre a parlare dell'atteggiamento, ho dato il termine senza essere troppo scolastici al punto della partita nel secondo tempo, mettendo la gara, i miei colleghi ci chiedevamo quando avremmo visto fare qualcosa forse fuori dallo spartito scappati per tentare di invertire una tendenza si è vero si è che invece è rimasto un po' un gruppione che non si procede a subvertire. Senti, sinceramente sì, quando io ho iniziato ho detto che siamo entrati in partita solo per dei minuti a Sprazi nella partita. E a Sprazi abbiamo giocato come sappiamo onestamente, come si può dire, quando ti trovi davanti comunque una montagna la puoi scalare in diversi modi e noi onestamente abbiamo scelto la via più lenta, meno rischiosa e questo chiaramente ci ha portato a tratti veramente a essere in balia di una squadra invece che stava mordendo, che stava facendo la partita. Noi volevamo venire qua e provare a fare la partita, onestamente non ci siamo riusciti neanche un po'. Questo bisogna ad onor del vero essere sinceri. Abbiamo pagato, diciamo così, cattivi momenti di qualcuno dei nostri, abbiamo pagato però di squadra che è la cosa che più mi interessa onestamente, veramente una roba, quando io dico scolastico dico che praticamente facciamo ma non lo facciamo con la necessaria aggressività.